36esima edizione della mostra del libro di borgo ricco una tradizione un'iniziativa che continua a crescere no soprattutto da dopo il covid c'è stato anche questo esploi quando dove e se ci sono novità quest'anno sì dunque la 36esima mostra del libro è un bel traguardo per anche per questa amministrazione è la più importante iniziativa culturale del nostro paese ed è molto apprezzata lo confermano i numerosissimi visitatori ogni anno che ci danno il loro apprezzamento insomma quanti libri la macchina organizzativa deve mettersi in moto un po prima e anche un numero maggiore di autori rispetto alle precedenti edizioni sì quest'anno abbiamo raggiunto il top abbiamo 18 ben 18 presentazioni di autori e è un impegno notevole perché è una mostra che dura 10 giorni di apertura con orario continuato dalle 9 del mattino fino alle 21 di sera e nel weekend venerdì e sabato si protrae fino alle 22 ma l'impegno è notevole anche perché bisogna allestire tutta la mostra in quattro giorni e disallestirla in due giorni in modo da recare il meno danno possibile a tutte le altre attività che ci sono nel centro nel nostro centro culturale adorossi è una mostra molto impegnativa dicevamo che è stata reso possibile grazie alla collaborazione con un grosso fornitore il libraio e che non avrebbe allora che intanto ha una vasta capacità di assortimento perché qui ci sono più di 20 mila volumi in esposizione e sono oltre 160 metri lineari di libri e poi tuttavia questo espositore non avrebbe il suo utile diciamo finanziario economico se non avesse la sinergia con la collaborazione nostra anche perché voi mettete in moto una macchina un imponente macchina di volontari avete anche degli sponsor diciamo locali che sono un po quelli fedeli no certo intanto mettiamo in moto una grande macchina di lavoro allora ci sono una quarantina di volontari adolescenti giovani adulti e pensionati giovani che danno la loro disponibilità ma anche i loro talenti diciamo qualche ora ma a volte anche tante giornate per allestire per aprire gli scatoloni riordinare distribuire nei tavoli secondo i vari materiali le varie tipologie ma anche i rifornimenti giornalieri che poi arrivano durante la settimana perché questa mostra è bello che è rifornita giornalmente perché qui si vendono molti libri sì sì abbiamo raggiunto buoni apprezzamento cioè buoni risultati arriviamo sui 100 mila euro di fatturato e adesso insomma anche dopo il covid c'è stato un sì un modesto calo diciamo però siamo riusciti comunque a riprendere la riprendere le vendite perché abbiamo innanzitutto cambiato la sede perché prima la facevamo nella palestra comunale e ora abbiamo questa da tre anni la facciamo in questa sede molto più prestigiosa che è il centro appunto culturale adorosi incontri con l'autore sono fatti al teatro e quindi è molto più accogliente ecco e nonostante tutto visto che il materiale anche di più cioè migliorato come qualità diciamo la vastità della palestra non la rimpiangiamo ecco e non solo libri perché ci sono una serie di iniziative che coinvolgeranno la cittadinanza e anche proprio geograficamente il resto di borgo ricco sì allora quest'anno proprio grazie a questo gruppo di volontari che ci dà una mano è partita proprio da loro la proposta di organizzare il borgo ricco comics domenica prossima appunto il 26 ci sarà questo evento dedicato tutto al mondo del fumetto dei manga dei cosplay e sarà un tripudio insomma una festa veramente bella soprattutto per i giovani che amano questo genere e ci sarà un concerto all'aperto interviste live gara cosplay sfilate e un sacco di bancarelle una trentina di bancarelle espositive dei gadget tipici e poi anche dei track per la ristorazione insomma quindi se volete passare una giornata intera a borgo ricco domenica 26 potete farlo perché qui siamo ininterrottamente a vostra disposizione se poi magari passate anche a comprare dei libri certo infatti simultaneamente è aperta anche la mostra del libro abbiamo intensificato quest'anno proprio la sezione fumetti e manga e penso non sia mai stata così bene rifornita soprattutto la zona dei ragazzi ecco voi diciamo ci tenete anche a ringraziare gli sponsor ma perché a volte sembra banale ma senza alcune realtà iniziative belle come questa magari non potrebbero venire organizzate noi veramente abbiamo ci teniamo veramente intanto a far capire che senza la collaborazione di tutti questi ma a partire dall'associazione che ti mette a disposizione i volontari per il servizio di sicurezza o dai medici di base che ti danno si propongono per il piano sanitario dalla parrocchia che ti presta i tavoli per tutta questa esposizione ma soprattutto non so anche una grossa vita del territorio una grossa vita la ortodonomi che ci dà i succhi di frutta per beverare i nostri ragazzi che ma soprattutto la nostra madrina d'eccezione è tecnoeca e la ditta di cristina lora che la nostra madrina proprio e ci ha sponsorizzato sia finanziariamente sia anche con ci ha fornito anche le magliette per il gruppo di volontari lei crede molto in questo progetto di giovani e infatti il logo è veramente questo cervello che sembra che sembra un albero che cresce e gli amici della cultura è un gruppo che secondo me deve trovare il suo posto nella nostra comunità e deve crescere ecco una mostra questa ma che si identifica quindi sempre più con il territorio in qualche modo sì certamente è comunque quando parli di mostro del libro di burgo ricco è comunque conosciuto in tutto il territorio diciamo senza insomma è in tutto il territorio regionale ecco e comunque propone anche quello che il nostro territorio offre ad esempio a volte ci sono mostre esposizioni di artisti locali oppure l'accademia filarmonica del campo san pierese che propone corsi musicali qui da noi comunque propone di suoi studenti per fare le sottolineature musicali durante gli incontri con autore insomma questa mostra vive un po di tutto quello che è la comunità e infine diciamo non tutti gli autori ma magari diciamo nei 23 ecco gli autori si abbiamo messo insieme un po di vari livelli diciamo ci sono quegli autori molto conosciuti tipo enrico galliano che è un educatore un insegnante che va benissimo anche per il tema che noi quest'anno abbiamo scelto i libri sono punti che uniscono e creano legami perché vorremmo appunto creare un legame tra gli studenti e gli insegnanti ma anche in altre occasioni in altri incontri ad esempio cito l'incontro con damiano e margherita per con che presentano il loro libro in collaborazione con l'associazione asperg e quindi parleranno di questa realtà comunque sociale insomma dei nostri ragazzi e ma anche beh per esempio ci sono anche luca zai antonella viola insomma che sono diventati non famosi ma insomma che tutti conosciamo bene una parte ci sono autori appunto dal profilo diciamo politico che però si sono cimentati con la scrittura e quindi c'è luca zai a c'è brugnaro e quindi poi anche ci sono autori che hanno risvolto quindi sociale tipo franzoso era un bullo racconta la storia di questo ragazzo e quindi viene presentata anche ai ragazzi delle scuole e poi anche la storia diciamo di andrea de vicenzi che un atleta paraolimpico e che ha compiuto il giro dell'islanda in bicicletta con una gamba sola